Nel 2018 aveva rapinato una giochilleria in zona Giotto, per questo era finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico nella sua abitazione di Catania. A tradirlo adesso però è stato un peccato di gola. È infatti evaso per comprare gli arancini, ma è stato scoperto dai carabinieri ed arrestato. L'uomo, 34enne, era stato infatti riconosciuto essere uno dei malviventi che il 18 maggio 2018 mise a segno la rapina ai danni della giochilleria di Fabrizio Santini. In quattro quel giorno suonarono il campanello, neutralizzarono l'orafo con lo spray urticante e poi fecero razzia di pietre, gioielli e metalli. Scapparono ma furono rintracciati dalla squadra mobile di Arezzo in provincia di Perugia. Per motivi di salute dei permessi per andare autonomamente dal dentista, avvisando la stazione dei carabinieri. Ma qualcosa ha insospettito i militari e così, alla nuova richiesta di permesso, hanno atteso il 34enne presso lo studio odontoiatrico dove non è mai arrivato e dove non si era recato neppure nel corso dei precedenti permessi autorizzati. Così sono andati ad aspettarlo a casa dove al termine della giornata è tornato con un sacchetto di arancini appena acquistati. Adesso il rapinatore è stato riposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.